Una buona giornata dalla redazione di La Sette. Chi ha vinto quel primo duello tra Elislein e Giorgio Meloni ieri in aula alla Camera? È stato un antipasto di quello che vedremo nel duello televisivo che si dovrebbe tenere da qui alle elezioni europee. Di questo si occupano i giornali cercando di capire meglio ieri che cosa è successo. Chi ha avuto la meglio in aula in questo botta è risposta con attacchi su vari temi. Anche con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma si parla anche tanto di quello che è successo ieri in Ucraina con l'abbattimento di quel aereo con 65 persone a bordo. Attorno al quale ancora ci sono molti gialli e c'è sempre la guerra a Gaza in primo piano. Ma anche tante curiosità perché la storia della Pifferi, l'ha imputata al processo per la morte di sua figlia, sta prendendo una piega diversa da quella che inizialmente gli stessi legali avevano immaginato con l'incriminazione di alcuni impiegati del carcere di San Vittore e di due psicologhe in particolare per averle indotta, per aver modificato le carte che la riguardano. Ne parleremo. Corriere della Sera. Cominciamo con una carrellata dei titoli dei nostri quotidiani. Come vedete il taglio alto è dedicato alla politica. Menonish Line scintilla la camera, scontro anche con il leader dei 5 Stelle. Ma il titolo d'apertura è dedicato alle accuse dopo la strage sull'Ucraina. Mosca dice che è stato colpito un nostro aereo che trasportava 65 prigionieri di Kiev. La replica a colpa loro non avevano segnalato quell'aereo, era carico di missili. Ma poi sugli aiuti a Zelensky si è consumato ieri un altro atto della politica in Parlamento. In Senato si è rivisto l'asse Lega Movimento 5 Stelle per un ordine del giorno che è stato poi modificato dal carroccio. Ma che comunque non impedisce di parlare di caso politico e lo vedremo. Dal messaggero Sanità, auto, conti pubblici, il duello in aula di Meloni. Il Premier attacca a Schlein e Conte, i problemi li avete lasciati voi. E rincara la dose su Stellantis dopo le polemiche di questi giorni. Aggiungendo incentivi solo per vetture prodotte in Italia. Dalla prima del messaggero a quella del giornale che parla di scintille tra Meloni e Schlein. La sfida in aula, Stellantis, Gaza, Sanità. La Premier respinge l'opposizione, l'Economist la promuove. Ma su Kiev è tensione con Salvini. Dalla stampa, in primo piano, l'autonomia differenziata. Perché tra i tanti motivi di scontro c'è sicuramente questo argomento. La sanità a rischio con le nuove regioni. Taglio alle risorse degli ospedali in metà paese. E lì ce l'ha in accusa. Questo governo è letale. Privatizzazione intanto. Meloni all'attacco di Stellantis. Nuovamente la replica. In Italia sono stati investiti. Abbiamo investito miliardi. Dalla prima pagina della stampa. Argomento che poi vedremo al termine di questa edicola. La terribile rivelazione. Non è di ieri ma di luglio. Della morte annunciata di Alain Delon. La mia vita è finita. Voglio morire. Avrebbe detto ai parenti. Quel mito imprigionato nel passato. L'apertura di Repubblica oggi è diversa. E Repubblica ormai ingaggiato. Una guerra privata con la Premier Meloni. Il titolo Lavelina Nera. Si riferisce a questo documento. Il mattinale delle ore 11. Che vedete riprodotto accanto alla foto della Premier. Con il fedelissimo Fazzolari. I nuovi attacchi di Palazzo Chigi a Repubblica. L'accusa nel bollettino inviato a ministri e parlamentari. In mattinata ci fa la guerra. E in aula la Premier a Berta Stellantis. Spenalizzato chi delocalizza. La replica. Se abbiamo investito miliardi. Gioviamo all'economia. Intanto è l'ischline. Meloni contro la stampa. Ma tace sulla sanità. E in questo imita l'Ungheria. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. A proposito di autonomia. Argomento sul quale batteva già ieri il quotidiano di Marco Travaglio. Oggi viene pubblicata e analizzata la lista di quei 45 senatori del Sud. Che hanno tradito il Sud. Cioè quelli che hanno votato l'autonomia differenziata. In barba alle promesse. Nella foto nel collage che viene proposto. Ci sono Giulio Buongiorno. Nelotito, Chiuto, Musumeci, Sisto e Incompany. Le sportellate di Giorgia per Libero. Il titolo di Mario Secchi per quello che si è visto ieri in aula. Avviso agli agnelli. Agli agnelli hanno ceduto i francesi. Le auto italiane vanno fatte in Italia. Il fuoco su Ellish Line ci chiede di affrontare le questioni lasciate irrisolte dal PD. Grazie. E la mazzata Giuseppe Conte finita la stagione dei soldi buttati ha distrutto la nostra credibilità. Ci sono tanti spunti oggi sui giornali per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Perché ovviamente la stampa va alla ricerca degli esperti per cercare di capire che cosa succederà. Soprattutto se ci sarà un aumento dei costi dovuto ai famosi LEP. Una delle interviste è sul libro per l'appunto Luca Zaia. Chiaramente uno di quelli pro. Chi critica l'autonomia si legga la Costituzione. Ma leggeremo anche altri autorevoli commenti di segno opposto. Dal sole 24 ore controlli solo sul 5% delle partite IVA. Oggi il sole 24 ore si occupa di lotta all'evasione. In primo piano ricordando o meglio spiegando che sotto la lente ogni anno finiranno 100.000 contribuenti tra quelli soggetti alle pagelle. Il Consiglio dei Ministri oggi varrerà il decreto sul concordato preventivo biennale che prevede per l'appunto questa misura. Milano finanza su la vicenda Stellantis e l'attacco di Giorgio Meloni. Meloni rivuole la Fiat, scrive troppo lontana dall'Italia. La Premier chiede al gruppo guidato da Tavares più automobili sotto le Alpi. E oltre alla questione Marocco viene criticato anche il trasloco della sede in Olanda. La replica ormai è un botte e risposta quasi giornaliero. Scelte fatte per crescere. Andiamo su domani. Sempre sul duello di ieri in aula. Sanità, scontro tra Meloni e Schlein. Il primo duello lo vince la Demma. La Camera nuova polemica con Stellantis. Celata la vendita ai francesi. A question time le due leader dibattono sulle responsabilità della crisi del servizio sanitario nazionale. La segretaria PD inchioda alla Premier, Ministra del Governo Berlusconi, quando venne imposto il tetto alle assunzioni. Ricordo del quotidiano. Dalla verità invece l'argomento dei 30 all'ora a Bologna diventa l'apertura di oggi. Il Ministero di Salvini detta le regole. Serve un freno ai limiti eccessivi. A 30 all'ora più incidenti e più feriti. Sono dati ACI su un esperimento che è stato già condotto in Sardegna e ad Olbia che smentiscono, scrive il giornale, clamorosamente i motivi di sicurezza accampati dall'Epore a Bologna. Una volta venuto a cadere il paravento verde, infatti a passo Duomo si inquina anche di più, gli scontri aumentati del 21% e i ricoveri del 30%. Ripetiamo, sono dati di uno studio ACI su un esperimento fatto ad Olbia. Dal mattino Meloni Schlein, prima sfida nel titolo d'apertura di oggi. La foto del giorno la prendiamo da questo quotidiano, ma questa foto la troverete ovunque nei giornali. Il popolo di Riva in 30.000 a Cagliari per dare addio al campione azzurro. Una foto che ritroveremo anche nella stampa specializzata. Dal resto del Carlino l'apertura. Il governo a Stellantis produca in Italia. E poi come vedete anche qui la foto notizia del giorno per Alain Delon che dice la mia vita è finita dopo l'ictus del 2019. Analizza lo scontro ieri in aula anche il tempo di Roma. Il direttore bolla come il dibattito sollevato dall'opposizione come dilettantismo allo sbaraglio. Questi on time alla Camera, Schlein e Conte tendono l'imboscata al Premier che respinge però tutte le accuse. E faccio vedere anche il gazzettino perché a parte le polemiche con Stellantis che costituiscono il titolo forte di oggi c'è la questione Fleximan che impazza da giorni in particolare sul quotidiano nel nord-est. Al setaccio 10 telecamere per quella strage di autovelox. Già 15 la caccia dei carabinieri al vendicatore notturno e poi l'ammissione dei sindaci che dicono non li sostituiremo perché i costi sarebbero ancora più elevati. Altra novità, la prendiamo dall'avvenire, riguarda gli anziani, la terza età. Perché oggi il Consiglio dei Ministri ci ricorda il quotidiano dei vescovi. C'è anche il decreto attuativo della legge delega che stanzia un miliardo per la domiciliarità. Si parte la riforma dell'assistenza al via, sperimentazione con mille euro in più per i servizi. Meloni intanto duella con Ellie Schlein sui fondi per la sanità, argomento che abbiamo già visto. Si occupa di questo anche Italia Oggi, anziani con maggiori tutele, riqualificazioni dei servizi a loro dedicati e una nuova prestazione universale per non autosufficienti che arriverà al 200% in più dell'indennità di accompagnamento. Il riformista, la lettura che fa di fatto Andrea Ruggeri sul quotidiano di Matteo Renzi, Tasse Time, Ellie fa comodo a tutti, scrive il direttore nel suo commento. Per Gaetano Pedullà invece dalla Meloni, 90 minuti di balle in Parlamento, Contest Line la sbugiardano punto per punto. Si occupa invece di Argentina, oggi il manifesto, il mondo nuovo, quello di Aviemilei. Trump vince nel New Hampshire, la prima delle primarie americane può essere l'ultima. In Argentina sciopero generale contro il nuovo presidente, il suo liberismo senza freni. Chiudiamo questa prima parte prima di dedicarci al nostro approfondimento con quella foto che vi dicevo per l'ultimo rombo in 30.000 per Gigi Riva a Cagliari. Sul feretro c'erano sia la maglia azzurra che quella rosso-blu, inevitabilmente con il numero 11, e poi gli scherzi da Juve che riguardano il calcio mercato. Ha soffiato giallo all'Inter e ceduto Ken all'euro rivale. Ci vediamo tra qualche minuto. State con noi. 7.15, ben trovati. Allora, chi ha vinto questo primo duello ieri in aula tra Eli Schlein e Giorgia Meloni? Cerchiamo di leggere i commenti dai giornali. Ovviamente, a seconda dell'area politica di appartenenza, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma ci sono anche dei dati incontrovertibili, sicuramente oggettivi. Allora, alta tensione in Parlamento. Su questo siamo tutti d'accordo. Lo scontro duro con Schlein e Conte. Siamo sul Corriere della Sera. Al Question Time, la Premier critica Stellantis cela l'acquisizione francese. Paola Di Cairo racconta dei botte e risposte in aula, racconta anche di quello che è successo dopo e conclude, è una certezza in ogni caso, la campagna elettorale ieri si è ufficialmente aperta. L'altro dato oggettivo è che c'è uno scontro su Stellantis. Questa è evidente, già ieri c'era una risposta, una sorta rivelata minaccia da parte della D di Stellantis Tavares. Su qualche giornale l'abbiamo letta. Oggi Stefano Montefiori ci racconta chi è Tavares, il manager ambizioso che venne scelto dall'erede Peugeot. Da 64 mila euro al giorno, un manager che è riuscito a irritare però anche Parigi. La scalata del portoghese viene raccontata da Montefiori, a capo del gruppo automobilistico. La lettura che fa il messaggero Giorgio Aelli, prove TV nella sfida sulla sanità. Scrive Mario Aiello che l'affondo più duro di quelli che abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, ma forse meno pop, Elislein lo fa fuori dall'aula con qualche cronista, evocando Orban. Mi sembra che Meloni abbia avviato, scrive la campagna ungherese, gli attacchi al giornalismo di inchiesta e alla libertà di stampa, quelli alla magistratura e ai sindacati. Questa è una prima notazione. Per la stampa il primo round va a Elislein. Ieri la segretaria Demma ha azzeccato i toni nel confronto con la Premier. Finora però ha sbagliati tempi ed è partito lo psicodramma nel partito. Perché, scrive la giornalista della stampa, Anissa Cuzzocrea, i tempi in politica sono tutti quelli che la segretaria Demma ha sbagliato, fin qui li ha azzeccati invece ieri. Non si è trattato solo della prova generale di un dibattito televisivo, ma del primo tempo di una sfida nel Paese. Destra letale sulla sanità, Meloni regina dell'austerità, nessuna parola è stata lasciata al caso. L'analisi di Anissa Cuzzocrea. Ci spostiamo sul giornale, nel retroscena di Alberto Signore, tra Giorgio e Delli una sfida in sordina. La Premier teme lo scontro con Salvini. Quella, scrive ad Alberto Signore, bene le tante adesioni al vertice Italia-Africa-Roma, la preoccupazione per la Lega che soffia sui fronti sensibili. Mancano pochi minuti alle 15, quando la Meloni arriva alla Camera per il suo terzo Premier Time. Il secondo a Montecitorio, accompagnata da una buona notizia e una cattiva notizia, come testimonia all'espressione del viso, che prova a non far trasparire emozioni. Quella buona è che si vanno delineando, scrive Signore, i contorni del vertice Italia-Africa. La cattiva è invece l'ordine del giorno che la Lega presenta al Senato, dove si discute degli aiuti militari all'Ucraina. E ci arriveremo, perché questo è stato ieri un altro motivo di scontro. Matteo Renzi, come l'ha vista? Come ha visto questo primo incontro-scontro in Aula? Meloni non può censurare chi parla di privatizzazione. Oggi sceglie di fare il titolo su questo, Alessandro Barbera, ma poi si occupa anche di quello che si è visto ieri in Aula e soprattutto della difesa che ha imbastito Giorgia Meloni. Dunque Meloni non ha tutti i torti sul passato, sta dicendo questo, dice Renzi, sto dicendo che sulle privatizzazioni possiamo aprire un dibattito che ci impegna qualche giorno, possiamo farci un bel convegno. Anche io penso che ci siano cose che sono state fatte bene, altre meno, ma ormai è materiale per gli storici. Parliamo delle privatizzazioni della Meloni, un processo fermo da tempo, e di lì Renzi si dilunga nel raccontare quello che farebbe, e arriva anche alla questione Stellantis. Al netto del giudizio che ciascuno può dare su quell'operazione, quello che non si può dire è, siccome il Cannes ha quotato Stellantis in Olanda, allora Repubblica e la Stampa non possono parlare di privatizzazione. Un'azienda privata fa quello che crede, è controllata dallo Stato, siccome Meloni non sta vendendo casa sua, ma quota di aziende pubbliche, ha il dovere di essere trasparente. Questo ci porta poi allo scontro di cui abbiamo parlato con il Quotidiano Repubblica. In merito intanto alla sanità, e parliamo di autonomia differenziata, c'è l'intervento di oggi sulla stampa di Nino Cartabellotta, che racconta per quale motivo l'autonomia differenziata potrebbe essere un problema, potenzierà Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, indebolendo il centro-sud, e l'Ishline ha insistito molto sul problema della sanità, e questa dell'autonomia differenziata potrebbe essere un'ultima mazzata per Cartabellotta. Cresce l'offerta privata e la migrazione di medici e pazienti che rappresenterebbe, dice il medico, un altro schiaffo al mezzogiorno. Sull'autonomia ci sono anche i dubbi del Vaticano, come segnala il Corriere della Sera, così l'Italia diventerebbe meno solidale. Fratelli d'Italia parla di devoluzione vincolata ai livelli essenziali di prestazione. Torniamo ai LEP. I governatori PD parlano di un blef, ma ovviamente le materie, riassunte in questa infografica del Corriere della Sera, nelle quali l'autonomia differenziata avrebbe un peso significativo, sono tante, con tante incognite, soprattutto. Allora, siamo a pagina 2 di Repubblica, dicevamo prima dello scontro con il Quotidiano, questa è la bellina, il mattinale, delle 11 che viene pubblicato oggi in prima pagina, dal Quotidiano. L'attacco a Repubblica, nota dello staff di Meloni, pensa solo a farci la guerra, è scritto chiaro e tondo nel bollettino riservato ai parlamentari e ministri, nel partito della Premier, un lungo capitolo che lancia accusa al nostro giornale, Elislein dice, sembra che la Premier abbia iniziato la campagna d'Ungheria, quello che forse ha colpito di più, come abbiamo letto da messaggero. Si parla di resa dei conti, invece, su Libero alla Camera, per Stellantis, Meloni avvisa il Cannes, io difendo la nazione, le automobili italiane vanno fatte in Italia, il Premier critica ancora la famiglia Agnelli, la nascita di Stellantis nascondeva un'acquisizione francese, bisogna tornare a produrre qui un milione di auto all'anno, altro schiaffo al leader 5 Stelle, la stagione dei soldi buttati al vento è finita, perché ieri c'è stato anche lo scontro con Giuseppe Conte, che ha attaccato duramente la Premier in aula. Siamo sul domani, a pagina 2, con l'altro nodo del giorno, l'abbiamo intravisto in alcuni dei commenti che abbiamo letto, ma sicuramente ieri la Lega ha provocato Giorgio Meloni con quell'ordine del giorno sull'Ucraina, poi ritirata Rebus su Premierati. I leghisti provano a mettere in discussione la linea del governo su Kiev e con una parziale retromarcia poi ricompongono la questione, ma il dato politico rimane. Come rimane la valutazione che fa oggi? Ho trovato molto curioso su Milano Finanza, il direttore Roberto Sommella, che a proposito di problemi con l'Europa, problemi che la Germania sta avendo su vari fronti, al proprio interno, anche economici. In Germania chi salva gli istituti di credito? Non certo il MES. La Bafin, infatti, scrive Sommella, ha chiesto agli istituti di credito dei Lander di trattenere nei loro bilanci gli utili per mettere Fieno in cascina a fronte della recessione che colpisce la più grande economia europea. In pratica, se falliscono le banche tedesche, Berlino le salva con i soldi pubblici. Da qui il diktat della Consob tedesca. Se vanno in difficoltà quelle italiane si finisce con il MES, dice Sommella, sotto la lente di Christine Lagarde in BCE con il rischio di essere commissariati da Bruxelles e da Francoforte, insomma da Berlino. Interessante spunto. Questo ci porta in qualche modo all'estero dove le questioni aperte sono molte. La prima è quella che riguarda quel pasticcio in Senato sulle armi all'Ucraina che anche la verità, molto onestamente, oggi riporta con grande rilievo per quell'ordine del giorno che ha chiesto di cambiare strategie sul conflitto, la bagarre in aula, poi la retromarcia. Usiamo la diplomazia. Ma ci porta anche alla cronaca per quel giallo sull'aereo russo abbattuto a Belgorod, Mosca, ha sostenuto che si trattasse i soldati di Kiev che andavano scambiati, 65 prigionieri, la replica. Il Cremlino non ci ha avvisato. Come stanno le cose? Forse non lo sapremo mai. Razio prigionieri ucraini, mistero sul carico dell'aereo russo abbattuto anche per il messaggero. È un giallo, rimane un giallo quello che è successo ieri a Belgorod. In giornata era previsto uno scambio, ha sostenuto Mosca, il regime di Kiev ha commesso un altro atto terroristico con l'abbattimento dell'aereo e trasporto militare che stava volando dall'aeroporto di Cialovsky a Belgorod per portare personale militare ucraino per uno scambio di prigionieri. Questa è la nota del Ministero della Difesa russo, dunque nota ufficiale. Interessante intervista oggi, tra l'altro, su Repubblica al consigliere del presidente ucraino, Zelensky, Podoliak, che dice se non ci aiutate, che torna a ribadire, se non ci aiutate, la Russia tra qualche anno attaccherà anche a voi. E quando viene ricordato da Paolo Brera che l'opinione pubblica è stanca anche di parlare di Ucraina, non solo quella italiana, come disse Meloni al duo comico russo, risponde qualsiasi guerra a lungo termine provoca stanchezza, ma se ti rifiuti di guardare obiettivamente alla guerra non significa che scomparirà da sola. La Russia sta distruggendo il modello di vita che piace ai paesi europei compresa l'Italia. Siete pronti a prendervi una pausa per poi affrontare la Russia voi stessi? Ci lascia con questo interrogativo a risposta obbligata. L'ONU accusa, intanto siamo spostati sull'altro fronte, sull'altra guerra, Netanyahu Tira Dritto e Tajani che oggi è in missione per l'appunto in Israele, impegno per Gaza e Libano. Quello che ci interessa è anche in taglio basso il racconto di Guido Olimpio su quella che è la guerra che in questo momento a Gaza i soldati israeliani stanno portando effettivamente avanti. Quello che era l'obiettivo dichiarato sin dall'inizio smantellare la rete di tunnel, ma se all'inizio un'idea l'esercito ce l'aveva, l'esercito israeliano, adesso sembra che questa idea sia un po' più confusa, una rete sofisticata e più ampia delle stime. L'esercito ancora non sa come demolire questi tunnel e viene riprodotta con questa infografica la scoperta dell'ultimo tunnel e della sua complessità, una cosa che forse neppure l'esercito israeliano, nonostante la sua rete di spionaggio, poteva immaginare. da Gaza, dai tunnel di Gaza ha racconto che da Gaza in superficie arriva sempre dal corrispondente di Repubblica, adesso nella striscia sparano anche sulla Croce Rossa la denuncia di oggi, a Cagnunis è stata colpita la sede dell'Associazione, l'ospedale Nasserre è circondato e bersagliato dagli israeliani. C'è poi la questione della giornata della memoria in arrivo con tutto il carico di polemica che si porta dietro. Oggi l'intervento di Gabriele Segre sulla stampa nella sua analisi molto sincera e molto dura dice essere ebraici e restare democratici è una scelta non più rinviabile di Israele. Il bivio infatti dice è tra un paese con radici tradizionali ma plurale o una nazione di tipo etnico identitario. Il 7 ottobre ha spazzato via le illusioni bisogna imboccare una via per ripristinare la sicurezza. Questo il suo intervento mentre la comunità ebraica come raccontava un attimo fa è in allarme proprio in vista della giornata della memoria e chiede di vietare il corteo pro palestinesi la manifestazione è prevista sabato a Roma per il giorno della memoria in concomitanza va approfondita serve una valutazione approfondita da parte del Viminale uno spunto interessante prima di passare alla cronaca lo troviamo oggi sulla stampa per quanto riguarda l'Europa che si è destra perché c'è un sondaggio di un centro studi che delinea per la prima volta una possibile alleanza PPS sovranisti con il boom dei partiti antisistema a spingerli sono soprattutto gli agricoltori e le altre categorie spaventate dai costi del Green Deal e viene riproposto ovviamente il numero di una proiezione ipotetica dei tre partiti che compongono il centrodestra in Europa tutto questo perché nel frattempo sta divampando la rivolta non solo in Germania ma anche in Francia dei cosiddetti trattori ma è una protesta di tutti gli agricoltori che sono mobilitati con Cortede, Vercelli, Acuneo, Biella, Novara anche in Italia per protestare proprio contro l'Unione Europea farina di insetti e carne coltivata si rivedono i leader dei forconi ma questa volta la politica resti fuori non ripeteremo gli errori fatti nel passato ultime segnalazioni per la cronaca perché vedo già pronta l'infacola santo con le anticipazioni del telegiornale abbiamo ancora qualche secondo drammatica la confessione di Alain Delon che finisce in primo piano l'avete visto sulle prime pagine dei giornali voglio morire la mia vita è finita fatto che ha molto colpito eccola anche sulla stampa Delon l'ultimo miglio del divo malato voglio solo morire la mia vita è finita sicuramente la questione scusate questa è l'ultima segnalazione la questione delle recensioni su internet ha assunto una dimensione che è sfuggita forse anche a chi l'aveva concepita e c'è un'intervista a Cristina Boverma che dice il cliente ha sempre ragione quando di fama deve rispondere vi lascio con la pagina del gazzettino che ci racconta le imprese di Flexi ma è ormai un incubo per gli autovelox e anche per i sindaci del Nord Denis Fracola Santo ben trovata quali notizie? Sì buongiorno buongiorno Marco apriamo di nuovo questa edizione del telegiornale che andrà in onda tappoco con il Medio Oriente perché nella notte è arrivata la condanna netta questa volta direttamente della Casa Bianca ad Israele per quello che è accaduto ieri ossia le vittime nel campo profughi di Khan Yunis per un attacco che in realtà l'esercito israeliano sostiene possa essere stato causato da un missile di Hamas e promette che ci sarà un'indagine di fatto ci sono stati diversi morti e per questo la Casa Bianca ribadisce il suo appello rivolto a Netanyahu a tutelare i civili nella guerra con Hamas che oramai va avanti dal 7 ottobre scorso mentre la diplomazia sostanzialmente è al palo anche se nelle ultime ore si parla di una nuova proposta di mediazione avanzata dal Qatar ma i termini sono sempre gli stessi perché Hamas non accetta di rilasciare gli ostaggi e Israele non accetta una tregua poi in Italia parleremo del question time ieri con lo scontro delle opposizioni con la premier Meloni e poi vedremo le immagini del saluto ieri a Gigi Riva a Cagliari tutto questo tra pochissimo nella prima edizione del nostro telegiornale ma io prima come sempre do la linea a Paolo Sottocorona che è qui con noi in studio per tutti gli aggiornamenti sulla situazione meteo buongiorno Paolo grazie Ninfa buongiorno qualche nuvola sul versante orientale a est ci sono un po' tutti gli strascichi delle perturbazioni vedete quelle già passate che ancora interessano queste zone ma restiamo e resteremo anche per il fine settimana a questo punto ci possiamo sbilanciare in questa situazione che abbiamo avuto nei giorni scorsi qualche velatura qualche nuvola ma di significativo dal punto di vista soprattutto delle precipitazioni non c'è assolutamente niente vediamo allora queste giornate quella di oggi vedete il grigio di qualche nuvola fra la Sardegna in parte e al sud sempre con qualche fenomeno più intenso al di là dell'arco alpino questa è una costante perché lì il passaggio c'è ma noi ne restiamo al di fuori vediamo la giornata di domani venerdì qualche velatura in più teoricamente debolissime piogge ma probabilmente nemmeno quelle sul versante tirrenico sulle isole poi nella giornata di sabato cielo in prevalenza sereno ancora una volta con qualche piccola incertezza ma insomma la linea è sicuramente quella le minime di questa mattina vedete che in qualche caso come per esempio in Sardegna restano anche al di sopra dei 10 gradi che insomma sono abbastanza elevate ma comunque sono abbastanza normali quindi nella nella media statistica di questo periodo anche sulle altre regioni stato dei mari c'è ancora un flusso di vento e di mare questo che viene dal dal Golfo del Leone nord ovest abbastanza forte vedete mare di Sardegna mare canale di Sardegna stretto di Sicilia Ionio in questa fascia il moto ondoso specie sui canali fra le isole maggiori è molto e ancora molto forte sulle altre zone meno vento e meno moto ondoso se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con l'Infacola Santo a più tardi